Salve a tutti e benvenuti in questo ottavo video dove approfondiremo l'analisi di alcuni costi che si possono trovare all'interno degli strumenti finanziari sui quali andiamo ad operare. Uno dei costi più significativi è quello dovuto al prestito titoli. Bisogna sapere infatti che, quando decidiamo di vendere allo scoperto, e vendere allo scoperto significa vendere un'azione, un ETF o altri strumenti finanziari senza prima possederli in portafoglio, il titolo da vendere allo scoperto ci viene prestato dal broker. Per tale prestito il broker ci farà pagare un costo, calcolato in percentuale sul valore del titolo venduto. Questo costo in percentuale varia al variare del tipo di titolo. Più il titolo sarà raro, più sarà alta la percentuale di questo costo. Facciamo un esempio su SPY, l'ETF dell'indice SP500 americano, che è anche l'ETF più scambiato al mondo. Il costo del prestito è pari allo 0,25% annuo. Se invece andiamo a vendere ETF relative alle commodities, questo costo in percentuale salirà incredibilmente. Ad esempio su Cornell, l'ETF del mais, il costo del prestito è pari al 10% annuo. Questo costo caratteristico dovuto al prestito titoli per vendere allo scoperto può anche essere sfruttato a nostro vantaggio, quando deteniamo in portafoglio ETF o d'azioni poco scambiate. L'esempio che mi piace prendere come riferimento riguarda l'ETF CGW. Questo ETF investe in titoli di aziende che operano nel settore del trattamento e fornitura di acqua, settore considerato da molti investitori come un bene rifugio per il futuro. Quando si impostano investimenti a lungo termine, utilizzando azioni ed ETF, questi ci rimarranno in portafoglio per molto tempo. Nel caso poi questi ETF ed azioni pagassero costi di prestito elevati, noi detentori possiamo approfittarci della situazione per ottenere un ulteriore guadagno. Prendiamo come esempio proprio l'ETF CGW, che ha una percentuale di costo di prestito del 17% annuo. Ipotizziamo inoltre di detenere in portafoglio questo ETF. A questo punto possiamo decidere di prestare i nostri ETF in portafoglio a qualcuno che li vuole shortare, cioè vuole vendere questo titolo senza possederlo. Se decidiamo di prestare i nostri ETF a questa persona, otterremo la metà di quel 17%, ovvero un 8,5% di ulteriore guadagno annuo, senza praticamente fare nulla. Questa operazione è possibile effettuarla tramite un particolare servizio, chiamato Stock Yield Enhancement Program, che permette di prestare i propri titoli, naturalmente in portafoglio, incassando la metà della percentuale di costo del prestito, senza però perdere i benefici della detenzione del titolo stesso. Ma attenzione, non è tutto qui. Infatti, se il titolo lo prestiamo, noi comunque godremo di eventuale rivalutazione del titolo stesso. Qui possiamo vedere il grafico di CGW, da settembre 2018 a settembre 2019. Il titolo è cresciuto dell'8%, andando poi ad aggiungere la percentuale ottenuta dall'aver prestato questo ETF, possiamo arrivare comodamente sopra il 16%, senza aver fatto nessuna azione particolare. Per attivare questo servizio, che direi eccezionale, messo a disposizione da Interactive Broker ai propri clienti, basta andare sull'Account Management e selezionare la voce conseguente. Un attimo dopo, saremo subito pronti per ottenere delle rendite passive quantificabili in un ulteriore 3% annuo.